Ciao ragazzi, se chiedete a noi di reparto corse di consigliarvi un buon lubrificante per la vostra auto sicuramente noi vi proporremo solo ed esclusivamente questo qui, il Bardal XTC, XTR, XTA, Tecnos C60 Perché abbiamo deciso di limitare la scelta a un solo prodotto? Perché questo prodotto secondo noi davvero ha qualcosa in più Ok, il lubrificante Bardal è tecnicamente molto valido, raffinato, efficiente però ce ne sono tanti altri così sul mercato, senza dubbio è un'azienda che ti offre un'ottima gamma di prodotti ma lo fanno anche tante altre Qual è allora il fattore determinante? Il fattore in questione è una molecola brevettata dall'ingegner Bardal un po' di anni fa che praticamente consente al motore di continuare ed è per quanto mi riguarda una cosa pazzesca continuare a funzionare anche se esso perde tutto l'olio anche in assenza di totale, ecco, nemmeno una goccia di olio il motore continua a girare, continua a girare e non si rompe, non si grippa sappiamo bene che le parti di scorrimento del nostro motore non si toccano mai c'è sempre un velo d'olio però questa molecola di cui è composto l'olio Bardal praticamente si lega alle pareti quindi anche se l'olio non c'è più e non c'è più il velo d'olio praticamente le parti non si toccano perché c'è questa molecola che rimane attaccata alle pareti per quanto mi riguarda è una cosa veramente differenziante che mi fa propendere all'acquisto di questo prodotto e al consigliare questo prodotto a tutti e quindi pensateci siamo a disposizione per ogni domanda spero che il video sia stato illuminante ciao ragazzi grazie grazie grazie